Dopo due tentativi di truffa online sventati nelle ultime settimane in Abruzzo dalla Polizia Postale, bisogna dire che Internet offre un mondo di opportunità, ma nasconde anche insidie. Le truffe online sono in aumento e i mail intenzionati utilizzano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le loro vittime, soprattutto nei periodi festivi, come quello di Pasqua, attraverso mail o messaggi di auguri. I truffatori utilizzano metodi sempre più diffusi per carpire illegalmente dati sensibili delle vittime. I malfattori inviano messaggi contenenti richieste di informazione da mittenti apparentemente attendibili, come la banca, le poste o l'istituto di credito, e spesso contengono un link che reindirizza a un sito clone, del tutto simile a quello ufficiale. Una volta inseriti i propri dati, questi vengono carpiti dai malfattori. Poi ci sono anche i truffatori che contattano le vittime telefonicamente, presentandosi come dipendenti dell'istituto di credito o come appartenenti alla Polizia Postale o ad altre forze dell'ordine, con la scusa di segnalare movimenti sospetti o accessi abusivi al conto corrente, e inducono le vittime a spostare velocemente il proprio denaro su un conto sicuro. Un caso emblematico è quello di una persona che ha ricevuto una telefonata da un presunto commissario rizzo della Polizia Postale dell'Aquila. L'interruzione improvvisa della chiamata ha insospettito la vittima, che ha contattato direttamente la Polizia Postale, scoprendo l'inganno e sporgendo denuncia. La Polizia ricorda che banche, poste o istituti di credito non utilizzano mai SMS, mail o telefonate per richiedere ai clienti dati personali. E poi è molto importante non cliccare mai su link allegati a messaggi o email, anche se apparentemente provenienti da mittenti attendibili.